Benvenuti e benvenute a questa seconda sosta di questo percorso verso una chiesa di uomini e donne, e ci siamo, uguali, diversi e convigiali. A nome delle suoi missionari comuniane vi do il benvenuto, ma soprattutto a nome del gruppo organizzatore di questo pellegrinaggio. La mese scorso il tema era una riflessione sulla chiesa delle origini, tra voi non così. Oggi invece avremo le prassi, quindi avremo dei racconti di esperienze vissute, e a partire anzitutto dalla prassi ecumenica. Ed è per questo che do subito la parola a Paola e a Margherita Bertinat, che è la presidente del SAE Verona. Grazie, a nome di Paola Mocci. Applausi Io prendo la parola solo per dire due parole. Vi abbiamo voluto accogliere con della musica. Non era forse facile da ascoltare perché era un po' particolare. Era una ragazza, questa canzone, un rap, è stata scritta da una ragazza afghana. Vi leggo solo una breve frase della canzone. Lasciatemi sussurrare, così che nessuno senta che parlano di ragazze invecchita. Con queste parole e con questo rap suonita, che è questa ragazza, vuole dare voce alle oltre 37.000 bambine che in Afghanistan ogni giorno vengono costrette dalle loro famiglie a sposare uomini molto più grandi di loro per soldi. Lei stessa era stata destinata, sposa a dieci anni e lei ha scritto queste altre canzoni e poi ha continuato a scriverne. E con questo è riuscita in qualche modo a dare voce non solo a sé, è riuscita a scampare, se vogliamo dire, a evitare questa svitatura, ma anche a tante altre bambine. Grazie. Due parole, ma che partono, diciamo, dall'ambito ecumenico, perché è l'ambito che conosco meglio ed è l'ambito per il quale sto spendendo la mia vita. Quindi parto prendendo spunto da un volumetto di due teologi veronesi e parto da due uomini, ma dei due uomini che hanno saputo anche ripensarsi molto, Marco Dal Corso e Placido Sgroi. Questa sera, soprattutto in questa sede, vorrei ricordare Placido Sgroi, che è un filosofo e teologo che ci ha lasciato prematuramente la primavera scorsa e ha radicato tutta la sua vita proprio al dialogo tra le fedi cristiane, tra le confessioni cristiane e anche tra le diverse fedi nel mondo. Ho portato alcuni volumetti del libro postumo di Placido, per chi lo volesse può prenderlo. Allora parto da questi due autori, perché hanno adoperato un paradigma diverso, per parlare di ecumenismo, hanno adoperato il paradigma dell'ospitalità. e diciamo che questi autori hanno fatto proprio questo concetto che è biblico dell'ospitalità, ma che non è solo biblico, perché appartiene a tutte le religioni. e cito da loro, ospitalità è un appello sempre da ascoltare, da soddisfare con cui confrontarsi, perché il pensiero ospitale descrive l'umano, il reale, perfino il divino diversamente. Per dire il pensiero ospitale, prendo come paradigma un termine, che suonerà strano il giorno d'oggi, è il termine della frontiera, che è un termine usato da questi due teologi, e la frontiera comunque non è intesa in senso escludente, non è un qualcosa da difendere, ma non è neppure come fanno i mercati qualcosa da abbattere, è diciamo uno spazio dove è possibile risignificare le nostre relazioni. Cito un'altra frase, il tempo e il luogo che viviamo sono occasioni di rifondare e spingere il pensiero a dire l'inedito, imparando dalla pratica, soprattutto da quella vissuta ed agita in frontiera, laddove il meticciato è di casa, l'ospitalità è una necessità, il pluralismo culturale e religioso è una realtà. La frontiera è un'immagine che piace molto anche a me, perché dice, presuppone la presenza dell'altro, presuppone la presenza dell'altra, ma anche di un altro che è l'assoluto, perché è un luogo dove si può incontrare, ma nello stesso tempo ci si può fare incontrare, cioè si può dialogare. È uno spazio dove la mia vulnerabilità è presente, dove mi sento disarmata, ma è in questo spazio che le relazioni possono essere ridisegnate, rinnovate. E' uno spazio dove mi lascio raccontare e posso raccontare l'altro l'altra in maniera diversa. Vivere la frontiera, quindi accettare di mettersi in discussione e di non lasciarsi condizionare da concetti già predefiniti. Cito nuovamente, l'altro apre ad una condizione di nomadismo, disloca verità e valori costituiti, dice possibilità di spostamento, senza perdere la propria identità. Dice uno spostamento, un mio spostamento verso l'altro, ma senza la perdita della mia identità. La nostra esistenza non corre tra due binari, penso che quello ormai lo sappiamo tutti, cioè ha un percorso più simuoso, ma è anche arricchito dalle diversità, da tante sfumature, e queste sfumature che le nostre diversità rappresentano, dicono anche la grande bellezza della nostra vita. Quindi sappiamo bene che non esiste un bianco e un nero, non esiste un bene, un male, non esiste una verità e una non verità. Perché? Perché l'assoluto che noi chiamiamo Dio, che può essere chiamato con tanti nomi, è al di là di ogni nostra affermazione. Non possiamo trattenerlo, non possiamo catturarlo. solo nell'incontro però, nell'incontro con l'altro, con l'altra, c'è data la possibilità di comprendere che le nostre visioni sono parziali, che noi guardiamo le cose da un punto di vista e l'altro può aiutarci a vederle dall'altro punto di vista. C'è una storiella, così ve la metto come esempio e poi termino, una storia che dice che vari rappresentanti dell'induismo vanno e vedono un elefante. Allora, uno lo tocca da una parte, l'altro lo tocca dall'altro, sono tutti ciechi. E uno dice, l'elefante è un lungo naso. L'altro dice, l'elefante è una grossa zampa. L'altro dice, l'elefante ha una lunga coda. Nessuno dice qualcosa di strano, tutti dicono una verità. Ma dal loro punto di vista, parziale. Allora, l'agire delle periferie è sempre un'agire di frontiera, dove esiste uno scarto tra ciò che è dato, tra ciò che esiste e ciò che noi immaginiamo, ciò che noi desidereremo. Ed è questo scarto che ci abilita ad uscire dal concetto statico di tradizione, dal si è sempre fatto così, dalla tradizione concepita come un museo da tenere ferma lì fissa. Questo scarto ci impegna ad intraprendere dei cammini nuovi, ci costringe a battere strade che non sono mai state battute. Allora possiamo dire, ma la comunità, dove sta la comunità? Come stiamo dentro la comunità? La comunità è quella che vive al suo interno questi scarti, questi scarti che rendono più viva la comunità, che la fanno camminare. C'è una condizione comune e quella deve essere nella condivisione, deve essere nel comunicare. in questo senso penso che la comunità degli scarti, cioè la comunità che si lascia si apre a una visione nuova, sia una risorsa per tutti e per tutte. Perché si instaura all'interno di questa comunità una dinamica dialogica che fa emergere proprio la possibilità di accoglienza dell'altro, dell'altra, di qualsiasi fede religiosa, ma proprio nella sua irriducibile diversità. Con questo termino per dirvi che il paradigma dell'ospitalità forse è il più adatto per dire il cammino ecumenico è il cammino tra le religioni. Perché l'ospitalità accoglie senza definire l'altro, lo accoglie per quello che è, poi lascia aperta la porta, l'altro mi incontra, ci incontriamo, l'altro riprende la sua strada, ma modificato da questo incontro. Lasciamoci modificare dagli incontri, lasciamoci modificare dagli altri. Parto adesso a presentare, non posso presentare, non posso presentare perché non mi ha detto niente di lei, Sara Benetti, ma solo ho detto che studia in teologia, sta facendo il baccellierato, e mi ha detto sono vicepresidente della comunità di Castagné. Allora, io lascio subito, sì no, scusate, della comunità Le Orme, scusate, Lazus, e della comunità Le Orme e non mi ha voluto dire altro, allora vediamo un po' che cosa ha da raccontarci di questa bellissima comunità. Lascio la parola. Se vi va bene, noi avevamo pensato di farlo così in concluo, 10-15 minuti di presentazione, se poi abbiamo bisogno di un paio di domande di chiarimento le facciamo direttamente subito dopo la presentazione, poi alla fine ci sarà un momento di dialogo tra noi, quindi grazie Chiara, non c'è bisogno perché io non presento mai quindi presento la comunità per cui Chiara, Sara va bene con tutto. Sì, non so se si è vicino. Mi paura. Così. Ok, allora, adesso provo a farvi vedere delle immagini, vedo se riesco a parlare e a far partire le immagini insieme perché non so bene quanto sono capace, ma in realtà sono semplici immagini di quella che è un po' la storia che vorrei raccontarvi. In realtà potete guardare in sala tutte le persone che vedrete qui sono qua, che sono venute, ma perché in realtà quello che mi piace fare quando parlo di quello che vivo, in realtà è raccontare delle storie e quindi mi piace che le persone possano vedere i volti di queste storie perché altrimenti sono solo parole un po' vuote, no? Posso raccontare tante cose ma se uno non ha presente chi c'è davanti quindi non so se capirete che cosa vi racconto però in caso venite a trovarci vedrete un po' meglio e quello che mi è stato chiesto da Margherita mi ha detto racconta un po' quello che fate ma prova a darci delle una panoramica un po' dei piccoli segni delle cose particolari che caratterizzano la vostra comunità allora io mi sono un po' provata a chiedere effettivamente quali sono questi segni che possono caratterizzare i punti fondamentali di un'esperienza che vorrebbe provare a avere una chiesa che cambia per una chiesa che cambia ovviamente il punto di vista da cui vi posso fornire questi segni è il mio punto di vista che è quello di una giovane donna quindi è un punto di vista femminile per quanto femminile possa volere possa essere un aggettivo che io avvicino anche a delle figure maschili della mia vita e una di queste è Paolo che è la persona più materna che ho vicino in questo momento oltre a mia mamma e poi un punto di vista giovane quindi per me dei segni sono anche in realtà dei sogni che poi è l'incontro della prossima volta con la Livia una delle figure fondamentali del mio percorso di teologia però sono anche dei sogni dei sogni di una chiesa che cambia ma non perché io ho la pretesa di vedere questa chiesa cambiata ma perché vorrei anche con questa piccola esperienza che vi racconto pensare che siamo in cammino insomma per questo cambiamento la storia inizia all'inizio del 2000 quando un gruppo di giovani che faceva esperienza di strada soprattutto con le ragazze che si prostituivano decide di andare a vivere insieme perché vuole provare a capire che cosa vuol dire quella scelta di Gesù di vivere con gli ultimi e quindi nel 2004 2005 iniziano a ristrutturare una piccola canonica in un paesino di 200 abitanti quindi un di quei paesini dove la vita rurale è quello che poi caratterizza tutte le dinamiche della piccola comunità la vita lì si struttura però perché ancora ancora lì viviamo adesso in 16-17 persone che scelgono di vivere la vita comunitaria e persone che non scelgono la vita comunitaria perché hanno solo quello come opzione perché per un breve periodo per un lungo periodo si trovano a dover vivere insieme per ricominciare una vita solo che nel tempo poi la comunità si ingrandisce si espande nasce una cooperativa facciamo le marmellate facciamo assemblaggio di metallmeccanica abbiamo aperto una trattoria sociale poi ci sono le foto e abbiamo fatto tante cose perché i bisogni effettivamente poi di queste persone sono tanti l'autonomia la vogliamo tutti però per volere l'autonomia bisogna anche avere uno spazio per poterla raggiungere ma nel tempo si affianca all'esperienza di Fittà e poi di Cologno Le Colle di altre piccole comunità anche l'esperienza della comunità di Marcellise che è una comunità un po' particolare perché è una comunità parrocchiale dove la comunità parrocchiale stessa fa l'esperienza dell'accoglienza fa l'esperienza di mettere gli ultimi all'interno della sua comunità e di far circolare tutto intorno a quella opzione preferenziale per i poveri intorno a quella scelta che prima fu di Cristo di mettere gli ultimi per primi e quindi da lì poi noi partiamo io mi inserisco in questa storia più o meno 6 o 7 anni fa all'incirca intorno ai 20 21 anni perché a quell'età tutti quanti i giovani si chiedono un po' che senso abbia la vita che cosa dobbiamo fare per cosa siamo stati chiamati che cosa vogliamo fare che senso hanno le scelte che facciamo e io lì ho incontrato due cose diverse che mi hanno portato a fitta una era la storia di Abramo Abramo che lascia tutto e va parte per un comando e disposto ad un certo punto lasciare anche l'unico figlio che gli è stato dato la promessa e lui è disposto dall'altra parte nella mia parrocchia da dove venivo non vi dico qual è perché a questo punto della storia non ne parlo mai bene quindi non lo dico nella mia parrocchia c'erano una serie di ragazzini con problemi di dipendenze che facevano skate e quindi sporcavano un po' fuori dalla chiesa che in realtà nessuno voleva in parrocchia perché dicevano appunto che sporcavano e che non stavano bene in parrocchia se hai un problema di dipendenza cosa vuoi fare in chiesa in realtà io mi dicevo ma come io faccio l'animatrice e tu mi dici che non posso accogliere una persona nella mia chiesa cioè non esiste loro sono i primi che dovrebbero stare lì e quindi un po' l'esperienza che facevo molto intensa con loro perché mi hanno fatto un po' impazzire e questa lettura di Abramo dentro di me in più con la conoscenza di questa comunità Paolo era curato nella mia parrocchia insomma vabbè ho pensato di un certo punto di lasciare un po' tutto e di andare a vivere a Fittà per fare una piccola esperienza di vita intanto mi chiarisco un po' le idee in realtà l'unica cosa che ho ottenuto a Fittà è di confonderle ancora di più tanto che ho deciso di rimanere a viverci ero mai sei o sette anni che vivo lì e nel tempo è cresciuta anche la volontà di dare corpo al mio a quello che mi aveva portato fino lì che non era tanto fare la psicologa o l'educatrice o chissà che ma era quanto seguire un Cristo che mi diceva mettiti dalla parte di quelli che sono esclusi e così vivo a Fittà studio teologia ormai ho finito per fortuna e il professore Savantini non lo dirà che ho detto per fortuna e per fortuna ho finito però è a quest'anno e e da lì insomma ho iniziato a pensare che effettivamente quello che possiamo dirci è che un'esperienza come quella che vivo io è un'esperienza di una chiesa che è in cammino per il cambiamento e allora ho provato a dirmi va bene quali sono questi segni che la Margherita ci chiede e allora ne ho trovati tre il primo segno io lo chiamerei il segno dell'accoglienza che per noi è la porta sempre aperta in casa a Fittà più che a Marcellise a Fittà la porta è sempre aperta di notte e di giorno Alessandro Franzoni quando l'abbiamo sì Giovanni Franzoni quando l'abbiamo incontrato qualche anno fa prima che morisse diceva che bisogna vivere sulla soglia bisogna vivere sul limite perché bisogna sempre controllare chi entra e chi esce e anche Alessandro Santoro ci ha ricordato in un incontro che abbiamo fatto alle piagge che l'accoglienza è sempre in entrata ed è sempre in uscita c'è sempre qualcuno che dà e qualcuno che riceve c'è sempre qualcuno che accoglie e qualcuno che si fa accogliere e quindi la porta aperta il segno dell'accoglienza per noi è davvero non tanto il segno dell'accettazione di tutti quanto il segno che siamo capaci siamo pronti più che pronti disponibili a raccogliere insieme qualcosa un'esperienza una storia un momento di vita che può essere più o meno lungo perché poi le persone passano vanno qualcuno resta qualcuno non torna più ma in ogni caso c'è quel io tu che si specchiano e che fa dell'accoglienza qualcosa di fondamentale per conoscersi tanto che una delle cose che ci viene da qualcuno rimproverata e da qualcuno rimane un po' sorpreso è ma quindi voi che vivete in casa siete degli educatori in realtà no nessuno di noi è un educatore laureato a parte che sarebbe un problema visto il testo di ammissione che c'è anche scienza ed educazione sono veramente pochi quelli che potrebbero vivere a tempo più in comunità ma in realtà in una comunità cristiana non può esserci educatore che vive in comunità tutti quanti dobbiamo essere pronti chiamati all'accoglienza e quindi davvero questo vorrebbe essere il segno di una chiesa che struttura la sua la sua organizzazione non tanto questa è Manessa non tanto in un modo troppo organizzato ma lascia che la vita degli altri entri si specchi dentro se stessa dentro questa chiesa e questa chiesa poi prende una struttura che poi è una a struttura è una struttura non struttura perché in realtà sa completamente modificarsi ogni volta che entra qualcuno di nuovo e noi davvero lo facciamo sia in casa che in parrocchia cioè quando una persona arriva ed è nuova la comunità si allarga si restringe si modifica in relazione a quella persona che entra il secondo segno è il segno della casa che per noi è la tavola perché noi in tutte le case che abbiamo abbiamo una tavola molto grande perché lì ci mangiamo tutti insieme è una regola a meno che uno non stia male a tavola si arriva puoi avere tutte le lune del mondo ma se tu sei arrabbiato tu comunque ti siedi a tavola puoi anche non mangiare puoi non parlare ma tu ti siedi perché è la regola della condivisione per forza uno deve a un certo punto guardarsi negli occhi ed è anche il luogo dove in realtà noi ci raccontiamo ci raccontiamo la nostra storia ci raccontiamo la nostra vita e quindi per noi la tavola e la casa in realtà è il luogo della celebrazione ed è un po' quello che viviamo a Marcellise sono celebrazioni sempre che non hanno che hanno sempre qualcosa di nuovo qualcosa di diverso che raccontano e portano il racconto delle storie che viviamo perché la celebrazione alla fine è questo secondo noi è il mangiare tutti insieme è il mettersi alla stessa tavola è il valore ultimo dell'eucaristia quello che tutti siamo chiamati ad essere a quella tavola lì non è tanto quello che mangiamo ma è il fatto che ci andiamo tutti quanti quindi ad un certo punto noi sogniamo e mettiamo un segno con questa tavola in questa chiesa per dire che in questa tavola noi non abbiamo bisogno di lavarci le mani possiamo veramente arrivare alla celebrazione della nostra storia senza esserci lavati le mani un po' come diceva Gesù non c'è bisogno di troppe evoluzioni prima del pranzo perché in realtà portiamo quello che siamo e quello che siamo lo mettiamo attorno ad un tavolo e lavoriamo insieme a questo tavolo per venire fuori da ognuno dei problemi dell'altro ma anche per conoscerci ma anche semplicemente per dire che vogliamo essere una chiesa dove la celebrazione è la celebrazione di una storia non è un rito che si ripete ogni domenica ma è qualcosa di diverso e quindi ecco che per esempio a Marcellise la chiesa non ha la disposizione dei banchi classica ma è circolare che poi non è circolare ma è rettangolare perché la chiesa è rettangolare ma è questo perché l'idea che uno entra e celebra condividendo perché bisogna guardarsi negli occhi perché ognuno deve portare qualcosa porta a quello che è alla fine porta a quello che fa porta quello che pensa anche se non è quello che pensa un altro e quindi questo è il secondo segno e poi l'ultimo segno in realtà me lo sono chiesta un po' ho detto ma qual è l'ultimo segno allora ho chiesto anche un po' in comunità ma voi che altro segno mi direste allora ce ne sono stati un po' e in realtà poi pensandoci ho pensato che l'ultimo segno che secondo me è uno dei più importanti per capire quello che noi proviamo a fare insomma lo stile che proviamo ad avere è il segno della parola perché poi alla fine la cosa più importante appunto che abbiamo è la voce che abbiamo è quello che noi possiamo dire è quello che noi possiamo raccontare di noi stessi delle persone che abbiamo incontrato è quel racconto lì quella narrazione lì che fa muovere le azioni della storia la stessa storia della salvezza si muove perché ci sono dei racconti perché ci sono delle voci perché c'è qualcuno che grida e quindi anche questo è il segno di una parrocchia di una comunità che vuole essere comunità prima che parrocchia Ernesto Ballucci diceva che bisogna che se la chiesa vuole compiere la sua vocazione allora deve sparire e secondo me è un po' ci stiamo provando con molta semplicità è vero siamo ancora lontani però vorremmo passare dal concetto di parrocchia al concetto di comunità per riuscire a pensare che questa chiesa prima o poi possa nella sua vocazione sparire e per farlo noi usiamo la nostra voce tutti parlano tutti raccontano e le storie sono quello che modellano la nostra esperienza di chiesa qualunque domanda il numero dei componenti della comunità il numero dei componenti è difficilissimo sono molto meno nelle case le persone che vivono all'interno delle comunità saranno 45-50 ma poi intorno girano volontari amici simpatizzanti ma la stessa comunità di Marcellise tutta fa parte della comunità quindi voglio dire è un concetto molto ampio ad ascoltare ognuno di noi avremo numeri diversi perché poi ognuno di noi ci mette all'interno tutte le persone che ha incontrato le persone che hanno condiviso per un breve periodo per un lungo periodo insomma una domanda è perché in pochi ci si riesce a mettere d'accordo quando la comunità è poco elevata non so forse da voi non nascono problemi però eh sì magari magari sarebbe benissimo ci mettiamo a tavola e cominciamo ogni volta ci facciamo aiutare da qualcuno che viene da fuori e che da fuori ci guarda e dice aspetta un attimo il baricentro è un'altra parte sì ma soprattutto quando viviamo insomma e secondo me una delle cose che riusciamo a fare bene o male che comunque ci porta sempre un po' avanti è che poi alla fine ci fidiamo sempre dell'altro quindi davanti mi diamo la fiducia che abbiamo nelle persone che abbiamo a fianco sempre anche quando queste sbagliano e quindi riusciamo in qualche modo a venirne fuori poi insomma cioè spirito santo speriamo che non sia qualche altra domanda io ne avrei una voi avete un nucleo che bene o male costituisce l'elemento di continuità perché porte aperte il nostro carattere è porta aperta tavola e poi la voce ma per garantire che ci sia un passaggio di di questa vita che cercate di far fluire c'è un qualcosa può essere considerato un nucleo attorno al quale poi altre i passaggi i transiti quelli che vanno che stanno e arrivano per una settimana o un mese ma poi continuano la loro strada ecco come vedete come vedete voi stessi questa questa comunità la questione dei transiti è sicuramente una delle questioni più complesse che noi abbiamo all'interno della comunità non è fare un'analisi sui passaggi non è mai così semplice lo puoi fare soltanto quando i passaggi sono avvenuti quando alla fine ma voi avete un nucleo si si certo questo nucleo chi è? chi è? un po' un po' tutti in realtà nel senso che c'è la cosa complessa forse da comprendere è che c'è un nucleo di responsabili se vuoi chiamarli così di persone che hanno fatto parte dell'esperienza dall'inizio oppure che sono aggiunte dopo come me o che hanno deciso di prendersi la responsabilità di questa comunità ma nella realtà certe volte quelli che ci aiutano nei passaggi sono proprio le persone che passano di lì molto rapidamente o che sono lì perché hanno bisogno di essere lì perché sono quelli che poi in realtà si fanno garanti che riescono a vivere veramente quel luogo come casa e quindi sanno bene intanto sanno prendersi cura l'uno dell'altro molto meglio di come posso fare io e poi sanno prendersi cura di quel luogo lì perché è l'unico luogo che in quel momento per loro è importante perché hanno come radice quindi riescono ad aiutare noi a capire qual è la strada appunto per questi transiti poi sai non lo so dal mio punto di vista una delle cose che mi aiuta sempre per capire come fare il passaggio successivo è la parola di Dio quindi per me è fondamentale ma ognuno di noi ha quello ha qualcosa di suo insomma che lo tiene lì e che gli permette di passare oltre allora adesso conosciamo Anita Cervi e Giuseppe Magri che sono sposati da 43 anni hanno figli e nipoti 6 anni di missione in Etiopia forse sentite? si sentite? Anita è formatrice dei missionari al CUM e collabora con la fraternità vivono in canonica a Castagnè da 10 anni e questa è l'esperienza che vogliono raccontarci lascio che vi raccontiate volevo solo fare l'introduzione nostra nel senso che mi trovo un po' imbarazzato ad essere nel gruppo delle donne per parlare nel ruolo delle donne però penso che sia un valore aggiunto in questo caso la presenza maschile per dire che è un'esperienza anche di famiglia di coppia che deriva da esperienze lontane molto molto lontane nel tempo che sono iniziate per noi come coppia quando Anita era la moglie di Beppe per molti anni perché lei ha dovuto dedicarsi alla famiglia e quindi ha lasciato a me il tempo di essere Beppe per tanti e finalmente è arrivato anche il tempo per me di sentirmi dire che sono il marito di Anita e allora adesso Anita racconta la nostra esperienza più recente allora come è appena stato detto sono dieci anni che abitiamo in Canonica Castagnè che è un piccolo paesino dell'unità pastorale di Mezzani di sopra di sotto è Castagnè questo paesino da diciamo da un po' di tempo era rimasto senza parroco perché i parroci che erano presenti parlo nel 2008 e vivevano in comunità nella chiesa madre a Mezzani di sotto però già da tempo il parroco che era di Castagnè Don Luigi Burro che è stato anche il nostro il prete che ci ha sposati che ci ha seguito quando eravamo fidanzati ci stava facendo delle richieste che io non capivo molto perché noi dopo l'esperienza africana siamo riusciti a trovare una casa diciamo verso il piano di Castagnè quindi una casa in mezzo al verde che così nel tempo siamo riusciti ad acquistare e da qualche tempo Don Luigi si diceva perché non venite in Canonica e io proprio non capivo questo perché dicevo ma effettivamente noi la casa ce l'abbiamo non capisco questa richiesta e un giorno lui così con coraggio ha detto beh avete una casa grande avete quattro figli e lasciate la casa i figli e voi venite in Canonica ecco questo è stato il primo passaggio e quindi dal 2008 ci siamo trasferiti in Canonica che cosa facciamo? Nulla viviamo perché non c'è stato chiesto di fare qualcosa di particolare perché tanti ci chiedono aprite la chiesa chiudete la chiesa mettete i fiori perché questo nella nostra chiesa è ciò che i laici fanno però c'è qualcuno dispirato che pensa che i laici possono fare anche altro e ci è stato chiesto di fare di fare presenza di essere presenza come famiglia di essere presenza e anche diciamo presenza nella mediazione diciamo con le persone nell'accoglienza dei parrucchiani cercando di essere collante dove si possono disgregare le relazioni e piano piano abbiamo imparato ecco e a dieci anni da questa esperienza adesso con Beppe stiamo valutando e verificando un po' non tanto se l'esperienza è stata positiva o meno è stata molto positiva per noi perché ho ritrovato tutte le parole che Margherita diceva all'inizio no il bisogno di quando siamo rientrati dall'esperienza africana di intessere relazione con impossibilità di tornare in Africa perché comunque avevamo deciso di rimanere in Italia per una serie di questioni per noi è stato un invio in missione una missione che comunque passa sempre attraverso l'andare la voglia di incontrare perché si incontra solo se si vuole e anche il farsi accogliere perché noi comunque siamo stranieri non siamo autottomi di Castagnè e quindi veniamo da fuori veniamo dalla città e questa stranità ce l'abbiamo ancora addosso perché voi sapete nella benevolenza comunque nei paesini questo viene sottolineato spesso perché è vero non abbiamo la storia di quel paese nonostante che abitiamo lì ormai tra piani Castagnè e Castagnè ormai da più di trent'anni ecco per cui è stata diciamo una ricerca dell'altrove una ricerca di senso di dare senso alla nostra vita per rileggere anche l'esperienza diciamo che avevamo fatto fino a quel tempo Don Gigi ci ha accompagnato per un po' poi lui nel 2012 è morto per cui e siamo stati supportati accorti dal parroco che poi è venuto dopo Don Domenico Scobari diciamo Margherita quando l'ho sentita al telefono mi chiedeva che cosa c'è per voi di innovativo in questa esperienza allora innovativo porta novità sicuramente nella diogesi di Verona siamo l'unica esperienza nonostante che abbiamo una certa età non sto a dare diciamo sottolineature di mancanza è un'esperienza secondo me che nel mondo laicale dovrebbe prendere proprio piede proprio anche in questo momento che la Chiesa di Verona si sta approcciando a questo grande progetto di queste grandi unità pastorali e credo che la presenza del laico famiglia anche sia fondamentale nell'accompagnamento e nella comprensione io sono stata per molti anni anche formatrice nella catechesi dei genitori non è che avessi doti particolari è che comunque quando mi così mi consegnavano le problematiche familiari io le capivo profondamente perché comunque mi appartenevano mi appartenevano sapevo che cosa voleva dire accompagnare ragazzi come i miei figli ad un cammino di catechesi eccetera ecco per cui diciamo che il cammino in sé ha contato e in questa realtà in questo ruolo ci ha aperto anche una dimensione sempre abbiamo amato questa Chiesa anche se spesso la sentiamo un poco madre molto matrigna però abbiamo capito che è solo nell'accoglienza di questo nel starci dentro che forse almeno qualcuno mi ha detto e ci credo molto che non è tanto all'altro se dici di cambiare che cambia l'altro cambia nella misura che tu cambi che tu dai un respiro diverso che tu sai come diceva prima Margherita no tu sei capace di agire di frontiera no sai cogliere le periferie ecco quindi credo che in questa vita non ci sia niente di speciale sicuramente voi avrete delle testimonianze molto anche più interessanti diciamo che di innovativo o altro c'è stato un aspetto che ci ha alleggeriti abbiamo regalato la casa ai nostri figli e siamo ritornati nullatenenti e questo è una dimensione che ci ha proprio messo reali ai piedi perché quando ci sei dentro non ti rendi conto nel momento che tu poi la doni poi loro ne hanno fatto anche buon uso perché facendosi un piccolo mutuo se la sono ristrutturata due erano già sposati con figli per cui sono riusciti anche a farvi vivere quella contrada dove abitavamo ecco e in questo devo dire grazie a Beppe perché io ero molto attaccata a quelle mura perché avevano visto la nascita della terza avevano visto tanta vita e mi ricordo che nel lasciare quando per andare in canonica che pian si molto mi disse una cosa che la ricordo sempre che mi ha aiutato a fare quel passo mi ha detto ricordati che in qualsiasi posto noi siamo stati nel mondo abbiamo sempre fatto casa la casa non sono le mura sono le persone che noi incontriamo ecco quindi direi che qualche persona non dico molte magari anche nella realtà di Castagnè non comprende molto la nostra presenza perché dice ma è possibile che alla vostra età non riusciate a comprarvi una casa e a abitare in canonica ma che futuro avete ma i vostri figli poi non dicono niente si sono presi la casa voi le avete regalata ecco c'è questo passaggio che penso che parliamo anche con simpatia senza giudizio perché credo che si possa comprendere attraverso diciamo anche l'esperienza un'apertura di cuore e capire che si parlava prima anche di circolarità di condivisione ecco nel nostro piccolo noi cerchiamo di farlo cerchiamo di essere presenza dove ci viene chiesto senza però usurpare o invadere quello che è lo spazio degli altri perché questo è molto importante ecco lavorare evangelicamente mi piace sempre ricordare Isaia quando lui dice parla del servo inutile credo che proprio l'inutilità sia la costante che ci deve accompagnare nelle scelte della vita domenica avevamo il vangelo del destra e sinistra di essere protagonisti ecco credo che sia molto sottile è un filo di lana quello dal fatto del servizio e umanamente abbiamo bisogno di emergere però se mettiamo davanti i beni degli altri questo ci risulta assolutamente non sempre facile ma comprensibile e attuabile grazie Anita e Beppe non so se c'è qualche domanda per loro prima dicevate la chiesa non abbiamo neanche le chiavi quindi non c'è nessun legame tra il vostro può essere canonica e un servizio di qualche genere diciamo alla comunità parocchiale alla liturgia alla da punto di vista istituzionale no in modo informale tanto questo è interessante non c'è una lettera di incarico del paroco del vescovo che si dite dovete accendere le candele perché non lo faremo comunque insomma anzi la maggior ragione devo lo fare qua c'è una domanda è l'aspetto psicologico di una relazione con la famiglia e se si vuole anche con degli amici che si invitano che so a una spaghettata a una pizza eccetera immagino che la vostra vita canonica sia ridimensionata oppure esiste in modo più allargato nel senso che stasera facciamo una pizza con dei panocchiani domani con per gli altri quindi più allargata l'aspetto psicologico è vissuto come qualcosa di sereno oppure ah mi sono staccato da quei miei ricordi da quella mia affettività e così via no credo che cioè viene vissuto con molta tranquillità nel senso che molti ci dicono voi non avete privacy e da un certo punto di vista è vero perché comunque sei canonica suonano molto spesso e e c'è l'accoglienza e c'è l'ascolto e c'è capire chi ti suona che anche se non è un parochiano comunque chi ti suona sempre voglia di dirti qualcosa anche di chiederti o di dirti qualcosa e diciamo che la nostra vita è sempre stata una vita diciamo meno calma di adesso perché alla nostra casa anche prima era sempre molto piena di persone no per cui non abbiamo trovato tanta difficoltà ad allargare ad aprire le porte è vero spesso noi abbiamo sacerdoti che vengono preti che vengono a cena infatti i nostri figli che vivono insieme con noi dicono avete una cerchia proprio distretta nel senso che però abbiamo amici abbiamo cioè continua tutto come prima e non è a livello psicologico non ne risentiamo in questo anzi prosegue prosegue diciamo quello che che vivevamo prima cosa non si è risposto scusatemi mi hanno detto perché sono già le nove e mezzo adesso che il cancello principale quello da dove siete tutti e tutte entrate è chiuso ma non siete prigionieri di scuola allora per uscire chiunque avesse bisogno di uscire prima a genere prende da questa strada sterrata si trova davanti un albero ecco non ci fa contro prende a sinistra e si trova sopia molti ortigara che al centro va bene comunque essere prigionieri delle scuole con buoni anni sarebbe sempre una cosa buona introduco introduco Erika Spredda diciamo che per le chiese protestanti non è una cosa diciamo non è un'esperienza delle periferie è un'esperienza ormai già consolidata per cui la presento perché comunque Erika Spredda all'interno della sua chiesa fa moltissime cose Erika Spredda è laureata in lettere e lavora quindi ha un lavoro insieme tutto io qualcosa racconto adesso faccio stare in vita alla mia partner di quest'estate per dirvi che lavora che ha studiato ma che anche sia laureata in scienze bibliche e teologiche presso la facoltà valdese di Roma è attiva nel SAE segretariato attività ecumeniche che è questa associazione di cui faccio parte e di cui l'Erika fa parte ma l'Erika fa parte proprio da quando era giovane cioè ha una storia veramente lunga con il SAE l'Erika tiene incontri per studenti porta testimonianze in diverse occasioni ed è predicatrice locale e lei ci racconterà cosa vuol dire essere predicatrici locali ma quello che più mi piaceva sentire per due volte membro della commissione di esame del sinodo cioè questa commissione di esame del sinodo valuta l'operato della tavola valdese che è l'organismo diciamo amministrativo l'organismo che fa funzionare la chiesa valdese per cui pensate una laica donna che è stata membro di questa commissione non solo fa parte del consiglio di circuito ma anche membro della commissione ministeri non dico che cos'è perché lascio parlare a lei qui in sala abbiamo anche un'altra persona della chiesa luterana non della chiesa riformata valdese che anche lei comunque è predicatrice nella sua chiesa possiamo poi accaltare la mia scelta è andata in questo caso ad Erika perché può raccontare qualcosa del SAE forse anche più di me che sono entrata dopo di lei e perché comunque c'è qualcosa che ci lega particolarmente e sono forse anche un pochettino le radici mie insomma mio papà era un pastore valdese questa presentazione di Margherita mi mette molto in imbarazzo per due motivi uno perché è troppo lunga e anche perché poi io avevo pensato di dover parlare di tutt'altro nel senso che avevo inteso la mia presenza qui come testimone non di me stessa come sembrerebbe quasi quasi dire Margherita ma testimone della mia chiesa che immagino la maggior parte di voi conosce meno di quella cattolica come è evidente perché siamo una piccola chiesa e quindi è più difficile vederci e conoscere di quanto non sia per me invece conoscere la chiesa cattolica e quindi io pensavo di dover parlare delle donne delle donne laiche magari anche ma comunque delle donne all'interno della chiesa valdese nel senso che la chiesa valdese molte di voi molti di voi lo sapranno hanno il pastorato femminile nel senso che è stato dato alle donne la possibilità di predicare e di amministrare i sacramenti è una storia lunga ma non lunghissima nel senso che comincia nel dicianno secolo quindi voi capite che è una storia veramente recente la riforma in sé non aveva innovato niente da questo punto di vista perché anzi Dutero era un po' conservatore aveva altri temi molto importanti da portare avanti quindi su questo tema era stato un pochino appunto conservatore e invece nel dicianno vesimo secolo ma qui poi appunto sarò rapidissimo per dare spazio a quello che mi ha chiesto adesso Margherita nel dicianno vesimo secolo nascono per la prima volta delle figure di religiose femminili perché la riforma non solo non aveva aperto alle donne ma avendo chiuso i conventi aveva estromesso le donne dalla vita religiosa per cui all'interno del protestantesimo come dire mainstream le donne non c'erano poi in realtà c'erano un sacco di altre esperienze di altre realtà profetiche carismatiche che avevano anche una presenza consistente di donne però diciamo che le chiese principali quelle che poi conosciamo dei libri di storia non avevano una presenza di donne se non nelle emergenze così si esprime Lutero si esprime anche Caldino però vabbè insomma le emergenze non sono un ingresso principale nel XIX secolo che invece nascono in Germania le diaconessi le diaconessi erano nascono per dare una possibilità alle sorelle minori nelle famiglie borghesi nelle famiglie borghesi normalmente il primogenito prende tutto la primogenita o comunque la prima donna può avere il corredo e la dote e quindi sposarsi le altre rimangono come serve tendenzialmente degli altri fratelli e quindi le diaconesse nascono come possibilità per queste sorelle minori di avere un'indipendenza vengono formate sono inferniere professionali come le chiameremo oggi insomma vengono formate e hanno una vita indipendente se avete visto delle immagini sembrano vestite un po' da suore ma in realtà avevano nell'origine la cuffietta come le donne borghesi cioè in realtà erano vestite come donne borghesi con la cuffietta in testa vestite naturalmente sobriamente e facevano un infermiere e questo dava loro la possibilità di uscire di casa avere un lavoro avere una formazione e una vita religiosa perché naturalmente questo avveniva all'interno delle chiese poi le diaconesse si diffondono anche in Svizzera e dalla Svizzera arrivano in Italia per cui in Italia fino a pochi anni fa c'erano le diaconesse l'ultima le diaconesse morta veramente c'era morta un paio di anni fa e quindi abbiamo anche avuto anche noi questa realtà le diaconesse erano non si sposavano non potevano sposarsi e dedicavano la loro vita appunto a essere infermiere quindi ci sono degli ospedali evangelici ci sono delle strutture dove c'è bisogno di questo ma naturalmente non poteva bastare questo nel senso che le donne avevano anche la vocazione alla predicazione all'ascolto alla didattiva proprio in senso propriamente religioso e quindi qua e là si hanno alcune esperienze cominciano ad esserci alcune esperienze poi tutta l'Europa centrale cioè diciamo Italia Svizzera Francia Germania negli stessi anni diciamo tra i 20 anni 40 del secolo scorso cominciano ad esserci delle esperienze oggi stasera non c'è Molari Molari l'altra volta aveva chiesto ma che ci sono degli risvolti cioè in una chiesa dove le donne sono pastore sono sacerdote ma non sono sacerdote naturalmente sono pastori cambia la comunità ecco io non credo io credo che la chiesa protestante crede che lo spirito continui a soffiare all'interno delle chiese di tutte le chiese naturalmente quindi stimola le comunità ad andare avanti a Palloncammina abbiamo sentito oggi di due percorsi diversi tutto sommato rispetto a una certo tipo di tradizione cattolica lo spirito continua a suggerire anche delle soluzioni diverse e oggi finalmente stiamo tornando a una situazione che vi ricordo che c'era già anche nel Nuovo Testamento cioè le donne già nel Nuovo Testamento hanno un ruolo più forte più importante più attivo di quello che poi è stato nella storia della chiesa e quindi ci sono degli episodi di donne che cominciano a studiare cominciano a predicare e quindi nel parlo ovviamente solo dell'Italia nel 1948 nel 1948 le chiese della Sicilia dicono beh noi vorremmo che voi al sinodo e qui entrerò nella storia mia se vuoi che voi al sinodo pensiate riflettiate se sia il caso o meno di aprire al ministero femminile parentesi sul sinodo a richiesta di Margherita il sinodo è la massima assemblea c'è la chiesa valdese la chiesa valdese è una chiesa organizzata per assemblee quindi c'è l'assemblea di chiesa che è quella locale poi c'è il circuito poi c'è il distretto e infine c'è il sinodo il sinodo si riunisce una volta all'anno per circa una settimana e vede riuniti tutti i pastori e laici in uguale numero sono 180 i deputati al sinodo di cui massimo 90 sono i pastori in alcuni anni in cui i pastori erano più di 90 non tutti potevano votare erano tutti presenti ma non tutti potevano votare e 90 laici laici che sono rappresentanti delle varie comunità il sinodo è il luogo dove la chiesa valdese prende il massimo delle sue decisioni poi naturalmente queste decisioni vengono maturate attraverso il lavoro di commissioni di gruppi di lavoro cioè non è che vengono improvvisate non siamo una chiesa carismatica che per lì lo spirito ispira c'è tutto un lavoro dietro però poi la commissione presenta al sinodo le questioni e il sinodo decide la commissione d'esame che cosa fa analizza studia il lavoro della tavola valdese dell'opera delle chiese metodiste perché in Italia le chiese valdese e le chiese metodiste sono insieme della facoltà valdese di teologia e della commissione diaconale c'è un gruppo di persone quattro persone di cui due massimo due la pastore massimo due laici sono due più due sostanzialmente che analizza tutto il lavoro che c'è stato durante l'anno di questi organismi esecutivi e presenta al sinodo questo operato sulla base di questa presentazione c'è il dibattito sinodale sostanzialmente quindi di anno in anno cambia questa commissione di anno in anno cambiano ovviamente anche le questioni il sinodo dà gli incarichi agli esecutivi gli esecutivi li fanno durante l'anno alla fine dell'anno queste commissioni raccontano come e se e quanto gli incarichi sono stati portati a termine e io ho avuto in effetti due volte l'onore di far parte di questa commissione perché effettivamente la nostra chiesa è una chiesa che dà spazio anche alle persone più adesso ormai io ho quasi 60 anni non sono più una bambina ma ho cominciato diciamo a lavorare per la mia chiesa quando ne avevo molti di meno ne avevo 25 26 27 30 35 via via e devo dire che la prima volta che sono stata al sinodo mi è stato chiesto se volevo candidare per questa commissione io ho pensato incautamente di dire di sì perché appunto essendo l'ultima arrivata mai avrei pensato ne avrebbero detto invece mi hanno letta perché hanno visto una ragazza giovane parlavo il coraggio di parlare al sinodo che in effetti è anche un luogo che è un po' intimidisce e quindi è sulla mano letta il colpa anche di Letizia Tommassone che molti di voi immagini non conoscono che è stata proprio lei ma sì vieni insomma ok quindi è una chiesa che effettivamente lascia spazio anche agli ultimi dal punto di vista appunto dell'organizzazione è l'altra cosa adesso appunto sto un po' mescolando quello che mi ero preparata con quello che mi hai chiesto adesso la predicazione la predicazione è data in primo luogo naturalmente ai pastori e alle pastore vi dicevo che nel 48 è stato si è cominciato a discutere il sinodo sul pastorato femminile e ci sono serviti 14 anni per arrivare a una decisione decisione che è stata maturata quindi come potete immaginare 14 anni ogni anno qualcuno riportava al sinodo questa questione la commissione che aveva esaminato aveva dato parere favorevole era convinta che ci volesse fosse lo spazio e fosse il momento giusto per il pastorato femminile sono corsi appunto 14 anni nel 1962 è stato accettato il fatto che ci fosse il ministero pastorale femminile nel 67 abbiamo avuto la prima donna pastore poi dopo negli anni 80 c'è stata anche la chiesa battista poi la chiesa luterana in Italia e quindi diciamo che entro gli anni 90 del secolo scorso tutte le chiese storiche protestanti italiane in Italia hanno il pastorato femminile dico storiche perché le chiese pentecostali invece non solo non hanno il pastorato femminile ma sono fieramente ostini al pastorato femminile quindi non pensiamo che tutto il protestantesimo è una compatto diciamo ci sono le chiese storiche che nascono dalla riforma e dal risveglio quindi diciamo che nascono tra il 500 e fino all'800 e che hanno una posizione come dire più liberale lasciatemi passare il termine e invece ci sono le chiese che sono nate tra fine dell'800 e tutto il 900 che sono le chiese che sono in grandissima espansione fra l'altro come credo anche nel cattolicesimo nelle chiese queste neocorte fumenali hanno un grande impatto sulle persone e sono contrarie tendenzialmente all'infumenismo e al sacerdozio femminile hanno una posizione morale molto rigida molto chiusa rispetto alla modernità diciamo così in generale e quindi insomma finalmente nel 67 abbiamo avuto il primo pastore nella chiesa metodista la predicazione laica c'era sempre stata sin dai tempi di Wesley che formava i laici ognuno al suo livello culturale diciamo quindi il metodismo aveva anche persone molto semplici che si sentivano ispirate e che in mancanza del pastore predicavano la chiesa valdese invece questa tradizione non l'aveva perché è una chiesa molto più intellettuale quindi gli studi teologici sono sempre stati aperti anche ai laici però non c'era questa abitudine così diffusa della predicazione dell'arma proprio delle persone anche semplici che però si sentiva di voler predicare con l'unione tra chiesa valdese e chiesa metodista naturalmente questo problema si è posto e quindi è stato un po' strutturato perciò un po' della formazione valdese è entrata nella predicazione locale quindi oggi abbiamo predicatori locali valdesi e metodisti che hanno un percorso di studi prima di essere predicatori percorso di studi che è variegato cioè non abbiamo tutti lo stesso percorso in realtà comunque diciamo io mi sono laureata quanto matriennale a Roma e a questo punto sono poi c'è stato un rito di ordinazione perché è un ministero anche quello della predicazione locale e quindi sono diventata predicatora o predicatrice locale e posso sia predicare che amministrare i sacramenti è ovvio che in primo luogo predicano e amministrano i sacramenti i pastori questo è naturale che sia però a me è successo già di aver celebrato sia la Santa Cena che anche un battesimo che è stata un'emozione notevole devo dire e poi mi è capitato anche di fare una benedizione matrimoniale naturalmente io non posso celebrare un matrimonio a differenza di un pastore perché per l'intese con lo Stato italiano io non sono nessuno non posso essere un ministro che sostituisce lo Stato italiano mentre un pastore sì però la benedizione cioè la parte propriamente di preghiera la posso fare che mi è capitato anche di benedire una coppia insomma ecco tutto questo per dire che ecco se avessi fatto il mio discorsetto avrei iniziato a dire io non sono sensibilissima alla tematica di genere perché ho avuto la benedizione di avere una famiglia nella quale sono stata eravamo cinque fratelli tre donne e due ragazzi e due maschi e sono stati risultati tutti nello stesso modo sia in casa perché facevamo i turni per lavare i piatti a parecchiare a parecchiare nessuno ne aveva voglia ma tutti dovevamo farli sia anche le uscite serali naturalmente morose fidanzate fidanzate cioè non c'è mai stata nessuna gli studi tutti abbiamo fatto gli stessi studi non c'è stata mai alcuna differenza quindi io come dire non ho il nervo scoperto io ho tante sorelle amiche che hanno molta più sensibilità di me nel cogliere le ingiustizie le discriminazioni le difficoltà di un percorso di eguaglianza di genere io francamente non ce l'ho tanto ma perché dopo ho perscontato una serie di cose e devo dire che ho avuto la fortuna di essere in una chiesa dove effettivamente la parità di genere è molto avanzata certamente non è cioè siamo italiani anche noi quindi viviamo in un contesto che è quello italiano se qui ci fosse seduta un'altra persona che aumenterà i nomi vi potrebbero raccontare tutta una serie di difficoltà che anche nella chiesa valdese il metodista hanno le donne per esempio la prima che mi viene in mente alla facoltà valdese di teologia gli insegnanti sono tutti uomini l'unica donna che c'è che è la pastora altomassone in realtà che cosa insegna? insegna studi di genere teologia femminista e studi di genere cioè una donna che insegna le sue cose e poi non è nemmeno ordinaria perché lei è un insegnante incaricato quindi tra gli insegnanti ora non c'è neanche una donna e non ci sono i studi di genere cioè sono un corso un po' a par ci sono ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto come volete voi però questa cosa per esempio poi naturalmente in tutti gli organismi esecutivi le donne hanno meno tempo questo diciamocelo in Italia ancora hanno meno tempo degli uomini e quindi di fatto ci sono più uomini al sinodo dove la presenza è abbastanza equivalente tra uomini e donne però effettivamente parlano molto di più di uomini c'era una pastora che forse qualcuno di voi ha conosciuto la pastora Dupre che purtroppo ci ha lasciati e lei aveva questo faceva questo gioco di segnarsi il genere degli interventi cioè masco c'era le crocette e definitivamente poi alla fine del sinodo risultava che avevamo parlato praticamente solo uomini e per quello che quella volta a me mi votarono perché ero una delle poche giovane e donna che aveva intervenuto quindi probabilmente era sembrato un caso strano ecco quindi ci sono ancora anche queste cose che sono cose però anche come dire culturali nessun valveso avrebbe mai il coraggio di dire che una donna non può accedere a un certo ruolo in quanto donna poi magari le fanno le scarpe ha una vita più difficile questo io non voglio negarlo però diciamo che formalmente questo non può non può accadere la come dire la difficoltà forse nella nostra chiesa e qui poi concludo è più che altro nella strutturazione dei ministeri cioè c'è una certa difficoltà a a distribuire il carico di lavoro tra perché i pastori si vivono un po' come tutologi quindi non solo teologi e lo sono straordinariamente bravi perché hanno uno studio molto forte molto profondo però tenderebbero a fare anche tutto il resto mentre invece la nostra chiesa prevede la figura dei diaconi che sono anche loro pagati dalla chiesa cioè sono dipendenti diciamo della chiesa un ministero appunto diaconale è nato negli anni sessanta è fatto da uomini e donne anche questo sin dall'inizio e poi ci sono i predicatori laici e poi ci sono una serie di membri attivi nelle chiese ecco lì noto che c'è molta più difficoltà a a utilizzare diciamo le forze che ci sono nella chiesa a trovare un accordo una una integrazione ecco tra le varie forze quindi io per esempio come come persona ho trovato più difficoltà nella relazione con con i pastori in certe situazioni che non come donna non mi sono sentita discriminata come donna qualche volta devo dire come laica qualche volta questo è successo io ringrazio tantissimo Margherita che mi ha dato questa mia chiamata tra l'altro Margherita ha all'uso suo papà valdese ma suo papà non solo era valdese ma era anche che è stato il pastore a Verona a lungo è stato il pastore con il quale io ho fatto la confermazione la mia missione nella chiesa valdese è stata a consumo fa felice è stato insomma anche in certi momenti molto importante della nostra vita familiare il nostro pastore un po' c'è le domande ma che domande ti hai detto una domanda molto semplice la chiesa cattolica maschile naturalmente maschilista ha una carenza di preghi quindi maschile e hanno si sono inventate le unità pastorali proprio perché non ci sono preghi per cui sostengono le parole e questo fenomeno si sente nella chiesa valdese cioè c'è una predominanza ancora di maschile oppure le donne assumono un ruolo anche da un punto di vista numerico insomma no perché dico qui siamo al visco e ciò rispetto spero ma e devo dare una cattiva notizia e cioè che la crisi del ruolo pastorale o del presbitero è una crisi trasversale e quindi nella nostra chiesa attualmente circa il 40% dei pastori sono donne ma questo non ci ha per niente aiutato cioè anche noi abbiamo un calo delle vocazioni una difficoltà crescente a coprire per esempio la nostra pastora di Verona è pastora anche a Mantua con tutte le difficoltà che questo comporta perché poi voi magari avete due parrocchie vicine invece qua deve fare anche alcuni chilometri quindi non c'è tutte le domeniche abbiamo delle grosse difficoltà e da lì nasce anche questo tema che io sento di cui sento parlare da non so quanti anni è il nuovo sguardo cioè al sinodo si continua a dire che bisogna avere il nuovo sguardo e cioè bisogna appunto inventarsi qualcosa per coprire tutto il campo pastorale pur avendo meno pastori e però c'è una grossa difficoltà perché le comunità tendono a essere a delegare molto al pastore cioè il pastore deve essere quello che fa tutto e il pastore anche però ci tiene a essere quello che fa tutto e sono complici in questa situazione e quindi appunto di fatto quelli che sono dei volonterosi però poi in realtà non abbiamo ancora trovato il modo di collaborare veramente quindi di coprire il campo pastorale in modo efficace quindi l'introduzione delle donne non ha cioè è venuta prima e non ha tamponato diciamo rispetto al problema della cava dell'evocazione che credo abbia origini molto diverse insomma purtroppo volevo dire una cosa io che ci la chiesa valdese fa chiesa insieme allora vorrei un attimino che spiegasti che cosa vuol dire cosa vuol dire far chiesa insieme cosa significa perché è una cosa che nella chiesa cattolica ci sono le comunità come si dice le comunità dei vari paesi africane o le comunità di lingua francese di varie lingue che fanno diciamo un percorso a sé stante hanno la loro messa chiesa valdese la chiesa insieme che cos'è questa chiesa insieme allora essere chiese insieme è una sigla che ha inventato uno valdese insomma che però è nella federazione delle chiese evangeliche italiane la federazione delle chiese evangeliche italiane è una federazione che riunisce al suo interno oltre alla chiesa valdese la chiesa metodista anche la chiesa luterana la chiesa adventista una serie la chiesa battista e una serie anche di altre chiese minori ed è la federazione quella che gestisce per esempio il programma protestantesimo non so se lo vedete vai perché o è di notte fonda o è di mattina quando viene a lavoro anche il culto radio lo gestisce la federazione cioè alcuni servizi e adesso la federazione è in prima fila per la campagna che voi tutti conoscete a favore dei Mediterranea Europe a favore dei immigrati poi appunto essere chiesa insieme è stato preso come dire portato avanti nasce in federazione che ha creato un suo sportello è stato portato avanti dalla chiesa valdese metodista cioè noi abbiamo immaginato e questo è un po' lo presente è un po' il sogno però è un po' a cavallo tra i due incontri immaginato di riuscire a costruire una chiesa qui una chiesa interculturale non soltanto multiculturale ma già che è già molto ma anche interculturale con gli migranti che sono arrivati da noi nel caso specifico che posso raccontare meglio perché è il mio pane quotidiano qui a Verona abbiamo una comunità che per metà è italiana e per metà è danese e questi fratelli africani sono metodisti quindi sono proprio i nostri fratelli ma la nostra vicinità comincia e finisce qua nel senso che un africano ha una spiritualità ma anche una teologia molto lontana da quella degli europei cioè arrivo quasi a dire che su certe cose siamo più vicini ai cattolici che ai fratelli africani è una sfida è una sfida perché tanto per esempio per gli anziani il fatto che loro abbiano una spiritualità molto più vivace della nostra chi qualche volta è venuta la nostra chiesa li ha visti ma ha visto anche un eco di quello che c'era i primi anni perché i primi anni ci eravamo lanciati di più poi appunto le persone più anziane erano un po' in difficoltà i tamburi fanno rumore i bambini sono chiassosi alcune modalità che per esempio abbiamo conquistato perché mi piace moltissimo che i bambini vengano in chiesa e quindi che ci sia un continuum ma vabbè questo è un discorso sarebbe un discorso anche lungo comunque stiamo facendo questa sperimentazione facciamo la chiesa insieme fare la chiesa insieme significa anche lasciarsi contaminare a correre il rischio di cambiare e questo è molto difficile molto difficile soprattutto per le persone più grandi perché noi abbiamo per esempio molti che sono ex simpatizzanti che sono entrati in chiesa valese a un certo punto hanno lasciato la chiesa cattolica o l'ateismo e quella è la loro chiesa la sentono fortissimamente e quindi hanno una paura tremenda che poi un certo giorno si sveglia e non c'è più la loro chiesa per me che sono andata valese è più facile perché non ho paura di perdere niente io sono valese cioè nessuno mi può strappare lì al mio essere valese per uno che è entrato a un certo punto magari con un percorso anche doloroso faticoso è molto più ma questa non è più la mia chiesa non è la chiesa che ho scelto quella volta adesso i casi sono tantissimi e diversi è una cosa meravigliosa però perché so copri delle cose per esempio appunto la gioia noi europei scusate ma di gioia ne abbiamo poca quando è una chiesa è una cosa seria questo è un po' il nostro approccio e invece loro vanno in chiesa e cantano la gioia e vivono c'è gente che vive con 300 euro al mese cioè vivono con questo e sono gioiosi non è solo perché sono africani come qualcuno dice no perché hanno anche un senso proprio di riconoscenza perché sono io c'era un uomo che adesso è veramente una storia bellissima perché adesso è diventato camionista c'è la moglie c'è il figlio quindi cioè è una storia netto fine però questa quando era qui all'inizio non c'aveva di che mangiare e faceva dei lavoretti poi ogni tanto erano due giorni che non mangiava pregava e diceva signore ma tu mi hai fatto venire in Italia mi hai mantenuto in vita fino adesso quindi c'è la responsabilità su di me dammi da mangiare diceva Erika poi mi squilla il telefono e mi chiamo qualcuno che deve mettere l'antenna che devo fare questo fare questo questo uomo una fede una testimonianza vivente poi adesso se lui gli è dato tutto bene lui tanto più dice vedi ma lui era felice anche quando stava male cioè non è che è felice adesso perché in qualche modo il suo sogno è arrivato a conclusione no lui era felice anche quando aveva niente ma niente c'aveva ecco questa cosa noi ci parlano noi europei che che non siamo capaci di questo quindi è un'esperienza bellissima è un'esperienza difficile perché anche loro non sono mica tutti ecumenici ecco lì è un'esperienza di ecumenismo e forse i miei anni nel Saiba hanno anche aiutato in questo perché in realtà la soluzione più facile sarebbe gli diamo lo spazio noi siamo democratici gli diamo lo spazio che facciano quello che vogliono noi facciamo il nostro punto e loro si fanno di loro sarebbe la soluzione più facile però noi riteniamo che il Signore non ci ha chiesto questo il Signore ci ha mandato in casa perché vuol darci qualche cosa forse vuol far risuscitare una chiesa che sta un po' non dico morendo ma insomma un pochino stanca è dà dei segni di stanchezza ecco invece questi non hanno stanchezza il rischio è che noi li contaminiamo perché io la vedo il percorso in questi 15 anni si sono secolarizzati anche loro qualche volta non vengono in chiesa perché vanno anche loro al centro commerciale e mi viene la pelle d'oca a raccontarlo perché invece una volta loro e non tutti sempre presenti e noi chi aveva la farla arrosto chi aveva questo chi aveva quell'altro noi siamo un po' così noi italiani quindi questo è essere chiesi insieme mettersi in gioco e non venite che casa anche vostra no venite che quindi lavoriamo insieme per costruire una nuova casa felice grazie 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 a tutti grazie a tutti